Oggi parliamo della cosiddetta lotta al contante. Il governo ha dichiarato apertamente guerra al cash, ma questa non è una novità, tant'è che il piano era stato messo a fine 2019, poi rimandato causa coronavirus. L'obiettivo è limitare progressivamente l'uso del contante e incentivare i pagamenti elettronici. Perché? Per ridurre i pagamenti in nero innanzitutto puntando agli oltre 100 miliardi di euro di imposte e vase con l'auspicio di recuperare da queste la più ampia fetta possibile e rimpinguare le casse dello Stato sempre più sanguinanti. Tre, le mosse principali adottate dal governo. La prima, cashback. Dal primo dicembre un rimborso del 10% su una spesa massima annua di 3.000 euro di beni e servizi pagati con la moneta digitale. Nel dettaglio sarà necessario spendere almeno 1.500 euro in un semestre con almeno 50 operazioni. Inoltre le transazioni superiori a 150 euro saranno parzialmente neutralizzate e questo significa che un acquisto da 500 euro conterà come un'operazione tracciata ovviamente ma contribuirà solo per 150 euro nel totale dei 1.500. Il motivo? Beh, spingere i piccoli pagamenti tracciati evitando di erogare il rimborso a chi fa poche ma grandi transazioni. La seconda mossa ancora dal primo dicembre arriva il super cashback. 3.000 euro ai primi 100.000 cittadini, anzi 3.000 euro ai 100.000 cittadini che effettueranno il maggior numero di transazioni elettroniche in un anno. Bisognerà poi attendere un altro mese e quindi primo gennaio 2021 per la terza mossa anticontante sempre e cioè la lotteria degli scontrini fiscali riservata a chi fa acquisti comunicando all'esercente il proprio codice lotteria. Due le tipologie di estrazioni, quelle ordinarie che premono solo i consumatori con premi che vanno dai 5.000 euro ogni settimana, dovrebbero essere 7, fino a un premio da un milione di euro ogni anno. Le seconde estrazioni o meglio la seconda tipologia di estrazione è quella denominata zero contanti in cui lo scontrino estratto premia sia il consumatore sia l'esercente e prevedono diversi premi che partono dai 15.000 euro, dai 5.000 euro per l'esercente, 25.000 per il consumatore, fino a un massimo di 1 milione di euro per l'esercente e 5 milioni di euro per il consumatore, anche in questo caso ogni anno. Secondo il fatto quotidiano per quanto riguarda i costi, il governo prevede stanziamenti per 1,75 miliardi di euro nel 2021 e 3 miliardi di euro per il 2022.